Una tragedia che ha sconvolto la Romagna per la seconda volta in poco più di un anno. Le immagini che ci arrivano dalla televisione sono terribili, case sommerse, famiglie evacuate e interi quartieri in ginocchio. Ma quello che più sconcerta è il fatto che, nonostante la devastazione dello scorso anno, poco o nulla è stato fatto per prevenire una nuova catastrofe. Ma com'è possibile? Perché in tutto questo tempo non sono stati rinforzati gli argini dei fiumi, non sono state costruite protezioni adeguate. Feltri punta il dito contro la gestione politica della regione, accusando apertamente la sinistra di aver trascurato i veri problemi della gente in favore di questioni ideologiche. Mentre la Romagna affonda, dice Feltri, loro pensano ai diritti LGBTQ+. Cari amici, oggi dobbiamo parlare purtroppo della Romagna che per la seconda volta di un anno o poco più è stata travolta dalle acque inondata, per cui il paesaggio che possiamo ammirare in televisione è una cosa disgustosa, perché ci sono case tutte evacuate, l'acqua arriva ai piani superiori delle abitazioni, quindi molta gente ha dovuto andarsene e non sa dove andare, dove ripararsi. Per cui siamo di fronte a una sciagura quasi simile a quella dello scorso anno. E uno si domanda, ma caspita, come mai nel frattempo, cioè nell'ultimo anno, non si è provveduto a rinforzare gli argini e a creare delle protezioni? In un anno si fanno molte cose, no? C'è il Padre Eterno che ha fatto il mondo di 6 giorni e noi non riusciamo in un anno a mettere al sicuro gli argini di un fiume, neanche fiume, è un torrente, quindi siamo di fronte a una situazione ridicola. Io credo che la responsabilità sia della Regione, perché ogni Regione deve provvedere al proprio territorio e la Regione sapeva benissimo che lo scorso anno era successo di tutto, tant'è vero che i danni dell'anno scorso non sono stati ancora riparati, ai quali si aggiungono i nuovi danni di questi giorni, che sono una sciagura assolutamente e il popolo purtroppo non ne può più, anche perché qui si tratta di dormire sui tetti per evitare l'acqua oppure di togliersi dai piedi con i gommoni e andare in luoghi dove è sicuro, ma dove è sicuro questi poveracci non hanno una casa, non hanno niente, per cui si devono arrangiare negli alberghi, in casa di amici, insomma una cosa veramente disgustosa che non trova nessuna giustificazione. Quindi gli amministratori della Romaia, che sono tutti comunisti, lo sappiamo, potrebbero anche darsi leggermente da fare, invece di fare la lotta alle parole che non si può dire, bisogna dire non so che cosa, invece di pensare a queste fesserie, a questo tipo di attività potrebbero darsi da fare per sistemare il loro territorio che è diventato un terreno di guerra. Per l'amor di Dio, datemi da fare, evitiamo queste figuracce e soprattutto evitiamo di costringere la gente a vivere come animali in attesa che le cose si sistemino. Questo è il risultato di amministrazioni più preoccupate delle parole che si possono o non si possono dire, piuttosto che della sicurezza dei loro cittadini. Non trovate assurdo che in un anno non sia stato fatto nulla per prevenire una nuova alluvione? Un anno è tanto, e come ricorda Feltri, persino il Padre Eterno ha creato il mondo in sei giorni. Eppure, i danni della precedente alluvione sono ancora lì, non riparati. E adesso si sommano a quelli recenti, in un disastro che ha messo in ginocchio la popolazione. Se sei d'accordo con questa analisi, lascia un like e iscriviti al canale. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Feltri non si limita a criticare la sinistra, ma lancia un vero e proprio appello. Gli amministratori comunisti della Romagna devono svegliarsi e smettere di concentrarsi su battaglie ideologiche. Il loro dovere è garantire la sicurezza del territorio e non costringere la gente a vivere come animali, sui tetti delle case o a rifugiarsi negli alberghi degli amici. Feltri afferma che questa catastrofe poteva essere evitata se solo ci fossero state delle vere misure preventive. Non solo critica, ma esige che chi ha il potere si dia da fare per evitare altre figuracce. La situazione è insostenibile e la pazienza della gente è al limite. Ti interessa continuare a seguire queste analisi? Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere nessuno dei nostri prossimi video e lascia un commento qui sotto. Feltri denuncia un fallimento politico su tutta la linea. Il suo messaggio è chiaro, basta scuse, basta ideologia, è tempo di agire. La Romagna ha bisogno di azioni concrete, non di parole vuote. Grazie. Grazie.